Erman! Da quanto tempo! Non sono un avvocato, ma... Non stai violando la libertà vigilata? Ops! Siamo bloccati qui! Giochiamo a obbligo verità? No? A schiacciapollici? Ok! Appugni in faccia! Wow! Ora i tuoi guanti sono digitali, eh? Come preferisci! Vuoi combattere? E allora... Combattiamo! Amico! Voglio sbatterti in galera per parlare di scienza con te! Ricordi il nostro primo scontro? Io ero giovane e stupido! Tu sono stupido!